questo è l'ultimo Vincenzo, ora sentino l'urlo incredibile, l'urlo lo fate quando andate tutti al cielo non capisco mai che dici Vincenzo, perché sono una volta fina ok, perfetto Pronti Vincenzo 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 Grazie a tutti. Ringraziamo Teli Lorenzo, la nostra manager, la persona e l'amministratrice di Radio Muglia e ringraziamo soprattutto voi. Fatemi ancora un applauso. Per chi ancora non l'avessi fatto, puoi aggiungere mettere un bellissimo mi piace alla pagina Facebook per scoprire così tutti i nostri prossimi appuntamenti, le foto delle serate e quant'altro.